Buonasera, buonasera e benvenuti su Alleyoop per il quotidiano appuntamento Un Caffè Con. Questa sera l'appuntamento sarà con Serena Ortolani, Serena Ortolani campionessa di pallavolo che aspettiamo per parlare di sogni, della sua carriera e di tutto il suo percorso. Ecco, Serena che arriva, la invito ad entrare adesso in modo da poter partire subito con lei. Dunque, eccola qui. Intanto che attendiamo Serena, come vi dicevo, parliamo appunto del suo lunghissimo percorso ma dei tanti sogni che è una... Dopo aver vinto tanto quanto lei ha vinto. Siamo in attesa che Serena riesca ad entrare e nel frattempo saluto le persone che stanno entrando. Ecco, vedo Serena. Eccoti, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, benvenuta Serena. Grazie. Che piacere averti, stavo parlando dei tuoi numerosi successi. Stavo parlando di un percorso di carriera che è iniziato tanti anni fa, una carriera lunga che ti ha portato a vincere degli ori europei, degli argenti in giro per il mondo, che ti ha portato a vincere tanto in Italia, ti ha portato a vincere un po' ovunque tu abbia giocato e quindi, insomma, una carriera veramente lunga e la domanda che mi viene da farti subito è, con una carriera così lunga, cosa sognavi quando eri piccola, insomma, per poi partire? Ma sì, intanto grazie per questa presentazione. Sì, devo dire che sono consente della mia carriera, anche se ancora non è finita, però, insomma, quando ero piccola devo dire che non avevo tutti questi gran sogni, desideri. Io facevo, a parte che quando ho iniziato a fare lavoro, manco mi piaceva tanto, però io sono una persona di quelle che quando fa una cosa la fa con tutta se stessa, cioè ci ho messo sempre l'anima, poi devo dire che i miei genitori quando ero giovani mi portavano in macchina fino a Ravenna, por lì facevano delle ore di viaggio così e quindi devo tanto loro e quando vedevo che loro facevano tanto per me, io comunque ho voluto dare o fare il meglio, no? E quindi dando sempre il massimo alla fine sono arrivata ad altri livelli. Io penso che quando una persona dà sempre tutto se stesso e raggiunge anche livelli elevati. Buono, scusami, ho un pelo di ritorno in cuffia, spero che sia solo un problema mio, adesso l'ho sistemato, perdonami. Favi sapere, al massimo toglio… Sì, forse… Provo te delle cuffie, aspetta. Io ti sento meglio. Così, va bene? Ti sento benissimo adesso. Forse era un fruscio. Ok, grazie, grazie, perdonami, scusami. Dunque, quindi hai detto una cosa importante, ancora oggi la tua carriera è lunga e insomma si prospetta di passaggi importanti, insomma hai vinto tanto in campo, in una delle ultime interviste che abbiamo fatto insieme, anzi nell'unica precedente a questa, mi hai detto che avevi vinto anche nel tuo percorso di vita fuori e parlavi di una grande vittoria che era la tua famiglia. Detto questo, hai detto bene, non è ancora finita la mia carriera, anzi, ma che sogni hai ancora nella pallavolo e fuori? Allora, intanto faccio un presupposto, tipo Davide mi ha insegnato a dividere il sogno dal desiderio, no? Sì. E il sogno è una cosa che vedi molto lontano, no? Una cosa quasi irraggiungibile, no? E invece il desiderio è una cosa, tipo una motivazione, no? Che ti spinge tutti i giorni, no? In campo e io tutti i giorni ho il desiderio di stupirmi. Cioè io vado in palestra ogni giorno con la voglia di stupire me stessa, stupire le mie compagnie oppure insieme stupire le persone che vengono a vederci ai palazzetti, dare spettacolo. E questo qui è la motivazione più grande che mi spinge ogni giorno, ancora oggi è 33 anni, andare in palazzetto, che mi fa la differenza. Questo è il mio sogno. E poi ovviamente dopo volley ancora non so niente, vedrò. Però sono sicura che, sono tranquilla perché sono una ragazza abbastanza determinata. Quindi quando voglio una cosa… Abbastanza? Abbastanza, dai. Beh, non si direbbe particolarmente. Questo me l'ha insegnata la pallavolo, cioè lo sport insegna veramente tantissime cose, poi lo sport di squadra ancora di più. Beh, direi che nella pallavolo sicuramente risiede un esempio lampante della tua determinazione. Citavo prima tutto quello che hai vinto, però devo dire che un'altra cosa che mi ha sorpreso nei racconti, nei discorsi che hai fatto, l'ultima volta che siamo parlati, era anche legata al concetto di squadra, al concetto di squadra e al concetto di avversario. Ossia a un certo punto parlavamo e tu mi hai parlato di come le tue compagne di squadra diventano uno stimolo da raggiungere in alcuni momenti, lo sono state in passato, lo sei tu per qualcuno e di come siano nel frattempo un pezzo di famiglia in quel momento lì. Questa cosa mi ha sorpreso perché la particolarità di questo tuo vederle come amiche e tra virgolette nemiche nello stesso momento, come esempio da inseguire o come persona a superare è una cosa molto bella, molto forte. Sì, allora intanto secondo me la parola squadra riguarda proprio i tre moschettieri, quando dicono proprio uno per tutti e tutti per uno, se me quella regola vale, cioè è il top, perché io, allora per quanto riguarda me, nella mia carriera mi sono accorta che io gioco proprio per la felicità dei miei compagni, cioè mi ricordo quando ero giovane, le giovanili che ero molto affiattata col gruppo e quando una volta abbiamo perso una partita importante, vederle tutte piangere, disperare, cioè proprio tristi, cioè mi ha fatto proprio male dentro, che dentro mi sono detta no io basta, non voglio più vedere soffrire le mie compagnie e di lì mi sono accorta che io giocavo proprio per la felicità dei miei compagni e poi vabbè quando ho giocato con Davide ovviamente anche per la felicità della famiglia, della sua e quindi un'altra motivazione mia era questa. Perché, perdonami, Davide che è tuo marito, è stato il tuo allenatore? Sì, sì, è stato il mio allenatore prima a Bergamo, quando ancora non stavamo insieme, abbiamo vinto uno scudetto e poi abbiamo fatto… Leggero, insomma. Abbiamo fatto tre anni, uno a Casamaggiore e due a Conegliano e anche lì abbiamo fatto un bel percorso. Abbiamo una spinta in più anche lì, insomma. Beh, intanto iniziano i commenti, a parte i grandissimi, ai cuori, vedo un Valeria Albergone, lo sport fa crescere, insegna ad affrontare le difficoltà, a condividere, a supportare, a aiutare, a fare un passo indietro quando serve. Interessante questo spunto, cosa ti sembra? Cosa ne dici? È molto bello, il passo indietro dici, riferito a quello? Sì, 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 sì. E i grandi giocatori devono saper fare anche questo. Io quest'anno, per esempio, è stato un momento difficile perché nella squadra abbiamo comprato una giocatrice fortissima, giovane e l'allenatore ovviamente gli ha dato fiducia e ovviamente io mi sono stata dal campo, cioè sono diventata panchina. Era difficile per me perché comunque aver giocato tutta metà stagione e così all'improvviso trovarsi in panchina. Però ho detto, no, Serena, le brave giocatrici devono fare squadra. Anche in questi momenti sai che è importante per la squadra. Lei farà la differenza e quindi secondo me i leader, le giocatrici devono sapere dire in certi momenti, ok, ora è il tempo per le giovani. Io so se per caso succede, se ci hanno bisogno. E il tuo rapporto con le giovani com'è? Mi sento un po' mamma. Devo dire che mi piace tantissimo. Poi quando vedo poi che mi ascoltano è ancora più bello. Cioè anche quest'anno avevo due giovani che ogni volta cercavo sempre di dare un consiglio. Poi Giuseppina è del mio ruolo, quindi mi piaceva ancora di più poterle aiutare perché ovviamente non sempre riesco di aiutarle. Però appena avevo qualcosa che vedevo, cercavo sempre di dargli uno spunto. Ovviamente c'era sempre l'allenatore che gestiva, però è bello, è un bel rapporto. Mi sento molto mamma, poi essendo mamma anche... Beh, devo dirti che quando è iniziata la mia... Sai che noi abbiamo... Io ho giocato a pallanuoto per un po' di anni, non ho mai vinto niente di quello che hai vinto tu. Il mio massimo del livello è stato la Serie A. Però insomma, tanta spogliatoio, tanta squadra, tanta passione e devo dirti che una delle cose che ho imparato quando poi ho iniziato la carriera d'allenatore era far conto su alcuni giocatori di cui sentivo il supporto e il bisogno. E il massimo supporto era proprio nell'aiutare i giovani, anche perché ce ne sono alcuni che li vedi, che possono fiorire, ma che ogni tanto hanno bisogno di quella spinta in più. Ti fa sentire anche il portante, no? È una cosa che ti fa sentire anche in quello più... Beh, guarda, devo dirti che per me è stato così. Cioè, quando sono approdato la pallanuoto c'erano ragazzi, in quegli anni avevano, devi capire che ho una certa età, nel 92 abbiamo vinto le Olimpiadi e nel 93 la pallanuoto è arrivata terza ad Atlanta. Quindi avevo giocatori che avevano giocato quelle finali, avevano giocato i mondiali. Insomma, sentirsi, ma anche riprendere da chi ha vinto tanto è assolutamente motivante e divertente, no? Quindi... Io riprendere no, non ce la facevo. Io non ce la faccio gridare. Sono una persona di quelle che piuttosto fermo... cioè, a fine allenamento la fermo, ci parlo e dico le cose perché non ce la faccio la scritta. Secondo me c'è sempre una motivazione perché è una persona a certi atteggiamenti. Quindi preferisco parlarne quattro occhi. Bello. Quindi i tuoi suggerimenti sono sempre in positivo, quasi mai in un'ottica di ripresa. Interessante questo aspetto perché insomma da noi invece... Perché sono fatto così, magari. A volte sono quelle persone che magari fa bene. Non lo so, visto qualche tua foto particolarmente grintosa mi sarei detto anche che qualche volta questa carica ti portasse anche a sgridare. Invece no, è più... Anzi, no, no. Sì, nelle foto vengo sempre con gli occhi a palla, soprattutto nelle partite importanti perché... Cioè, io trasmetto con gli occhi, parlo proprio con le mie compagne con gli occhi, anche perché in quelle partite lì c'è il delirio fuori, cioè proprio non si sente niente, cioè sei talmente dentro alla partita, adrenalina a palla. E io penso che dopo un anno intero che comunque giochi con le tue compagne basta solo un'occhiata e ti capisci. Assolutamente sì. Ci scrivono intanto sensibilità femminile, ovviamente rivolto a me che invece era abituato alle scridate, e a te che invece sei assolutamente capace di questo. E qualcun altro invece ci prende un po' in giro e dice aiutare i giovani con l'esperienza degli anziani. Grazie anche a questo. Comunque giovani siamo stati anche noi, quindi c'è... Ma esatto. Infatti lasciamo di parlare. Lasciamo di parlare. Senti, una cosa che mi interessa molto. L'esperienza di mamma, moglie e la vita in campo. Che cosa ti porti di una nell'altro e viceversa? Insomma, come ti ha aiutato il campo nell'essere mamma e come ti ha aiutato l'essere mamma nell'andare in campo? Ma devo dire che da quando c'è Gaia, mia figlia, mi ha cambiato tantissimo la vita. Uno, mi ha alleggerito tanto la palavolo, perché prima era molto pesante, mi piaceva tantissimo, però se un giorno non andava la partita, tornavo a casa, ci pensavo, ripensavo. Mentre invece con Gaia non avevo tempo di pensare. Tornavo a casa e c'era lei e c'era solo lei, quindi la partita era già bella che è andata. Devo dire che anche i primi mesi, quando era difficile comunque stare tanto con lei, tanto tempo, cioè comunque dovevi starci dietro, mi aiutava anche a staccare un po' e sfogarmi in palestra. Mi andavo a sfogare e poi quando tornavo ero tutta sua. Anche questo fatto qui mi ha fatto molto bene. E poi, quando poi vinci, la cosa più bella è anche dedicargli le vittorie e vedere che fa tipo per te, è veramente fantastico. Ma te la porti in campo? Ma quando ero più piccola sì, adesso se può, se ne resta a casa. Quanti anni ha adesso? Adesso c'ha sette anni tra un mese fa. Perfetto, devo dirti che, scusami che intanto leggo un commento che è arrivato. La critica può essere, se ben costruita, un momento di crescita e confronto. Un consiglio che si può decidere o meno di far proprio. Sembra uno spunto interessante, devo dire che il termine critica ha anche una valenza molto positiva. Sì, secondo me, solo da come si fa. Perfetto, quindi è il modo. Comunicare, sì. Ovviamente, anzi, io sono la prima a dire di parlare, di dire sempre quello che si pensa. Però l'importante è il come. Perché se uno si aggredisce alzando la voce, magari anche prendendo in giro la persona o criticando, però giudicando, secondo me è inutile. Però piuttosto prendi la via. Come la pensi? Perché io la penso così, tu la pensi diversamente. Insomma, questa è la migliore. C'è Chris Dona, del 73, che ti chiede, a tuo avviso, qual è la giovane che più ti assomiglia? La giovane? È difficile. Allora, io sono stata in camera con Elena Pietrini e mi piace tantissimo, è una ragazza dolcissima. Non dico che ci assomigliamo, perché lei è tutta un'altra persona. È difficile trovare quella qui. Anche interessante questa tua riflessione, perché diventa divertente capire a zinto in che aspetti ti assomiglia. Ci sarà qualcuno che magari gioca più come te, qualcun altro che è come te come carattere. Sì, non so quale sia più facile vedere. Forse perché io mi sono trovata molto bene con lei in camera, quindi potrebbe essere come carattere. Come giocatrice, boh, è difficile. Anche perché io ho fatto un percorso, sono stata molto diversa nella mia carriera. Non ero sempre stata così aggressiva. Cioè, io mi ricordo le giovanili quando mi vergognavo di me stessa. Entravo in campo, facevo quello che dovevo fare, però avevo paura, tipo. E quindi non so cosa dire. Vabbè, ci pensiamo. Poi se ci viene in mente lo diciamo. Ascoltami, ma una delle riflessioni che mi veniva mentre raccontavi questa cosa è che mi hai detto entrambe le cose. Quindi ti porti da mamma… Scusami, nel frattempo chi ha fatto la domanda risponde, non ce n'è una forte come te, ovviamente. È anche bello. È grande. È giusto che i fan si possano esprimere. E qualcun altro… Esatto, esatto, va bene, siamo sicuri di questo. Mi hai detto che, insomma, Gaia ti ha portato molta serenità fuori dal campo e che in campo quello che invece la vita da mamma ti ha portato è la passione di essere tifata da lei, corretto. Ma invece nella vita fuori, cioè com'è la tua vita quando non sei in campo? Ad esempio in questa quarantena che, insomma, non potevi andarci. Com'è stata, insomma, che ho visto lanciarti in diretta su Instagram, riuscire a parlare con i tuoi fan? Insomma, tante cose, tanta serena in questo periodo. Ma guarda, questa cosa… La rubrica… Stai parlando della rubrica che ho iniziato a fare? Sì, sì. Sicuramente io. Parlo di me. Ma mi è capitato perché ho fatto due chiamate con due società dove mi hanno chiesto di parlare con le ragazze, no? Dato che erano ferme a casa, ho detto facciamo due chiacchiere insieme così parli un po' di te. E mi sono accorta che è stato… mi è piaciuto tantissimo. E poi ho avuto anche risposta dall'altro lato. E quindi mi è piaciuto tanto e ho detto ma perché allora invece di farlo mille volte non faccio una cosa mia su Instagram? Così chi vuole mi segue, chi non vuole non mi segue. E raccontando un po' la mia esperienza, tutte le mie passioni, quello che mi ha insegnato lo sport, la mia carriera così. E allora ho iniziato a fare queste dirette, parlo un po' di cose generali, un po' di rapporti con l'atore, rapporti con le giocatrici, difficoltà, insomma un po' di tutto. Però mi piace un sacco poter trasmettere quello che ho imparato dopo tutti questi anni. A proposito di trasmettere, Simona Di Bari, che ringrazio per la domanda, dice qual è l'insegnamento più importante dell'esperienza sportiva che vorresti trasmettere a Gaia, quindi a tua figlia? Allora, intanto la cosa più bella secondo me, adesso la vedo sempre che dico fai questo, fai l'altro, non c'ha mai voglia. Come tutti i bambini, dai alla fine gli chiedo di apparecchiare, no devo fare questo mamma, devo fare l'altro, vabbè. La voglia di, come ho detto nella presentazione, di andarsi a prendere le cose che lei vuole. Devo dire che è molto testarda, mi assomiglia tantissimo a questo. Una volta dicevo che era un mio difetto, quando ti chiedevo un mio difetto, è un difetto più grande, è una testardaggine. Ma adesso lo devo solo ringraziare, perché quando io voglio una cosa, me la vado a prendere. Cioè, ma qualsiasi cosa succeda, se la voglio, la prendo. E lei è molto simile a me, quindi questo è già un punto di forza secondo me. Non glielo dico ancora, perché se no... Comunque questa cosa qui, andarsi a prendere quello che vuole. Questo è un insegnamento per lei. Intanto c'è Ezio Brambini, pallavolista anche lui, che scrive l'allenatore che ti ha trasmesso di più, non vale dire Davide, ma vabbè, insomma va bene lo stesso, e la giocatrice che hai preso come esempio. Allora... allenatore, vabbè, allenatore... No, comunque devo dire che quando ero giovane ho avuto l'allenatore Pieragnoli, che comunque ci hanno insegnato tantissimo nelle giovanilie, anche il rispetto, queste cose qui dell'orario, degli indomendi giusti, il pranzo, l'educazione, proprio in palestra e fuori. Questo mi ha insegnato tantissimo. E gli allenatori, ovviamente crescendo anche in palestra, tecnicamente. No, beh, però questo è un aspetto molto importante. Sì. Nel senso che, soprattutto, io ti dico, nel mio mondo, negli sport minori, purtroppo la cultura, ad esempio, della divisa, non è così diffusa. Negli sport meno conosciuti, insomma, la Paranoto è stato uno sport che ha vinto tanto, ma che non ha mai tante sponsorizzazioni. Allora, già soltanto, sicuramente c'è il rispetto del tempo, degli orari, però ad esempio già questa cultura degli indumenti è una tematica molto importante. Perché è sicuramente facilita. Quindi mi piace che tu abbia preso questo primo esempio fuori dal campo, insomma, fuori dalla palestra. Scusa, mi ti interrotta. Sono gli insegnamenti che poi ti porti dietro anche più grandi, tipo in sala pesi, quando smetti, finisci di fare un esercizio, metti in ordine. Sono tutte piccole cose che però è l'educazione che ti porta avanti e fa bene per stare insieme a altre persone. Poi, vabbè, Davide. Davide, vabbè, a parte che secondo me è veramente top, ma perché sta sempre aggiornato e sempre avanti, cioè mi piace da morire. Vabbè, a parte tutto, mi ha insegnato ad auto allenarmi, no? Cioè a scoprirmi. Questo mi piace tantissimo. Cioè quando sono in palestra, lui preferisce a volte dirti senti questo movimento, senti questa cosa, senti, cioè a volte, cioè non ti insegna, ma vuole che tu ti autoinsegni. E adesso quando vado in palestra è per questo che voglio stupirmi, voglio auto, cioè voglio trovare sempre delle cose nuove, no? Dei movimenti nuovi, dei gesti nuovi, dei colpi nuovi. Quindi, boh, mi ha aperto questo mondo e devo ringraziarti. Adesso mi piace. Nel mondo aziendale ultimamente questo si usa tanto, ad esempio nell'ambito del coaching, laddove lasci che le persone trovino pian piano il proprio modo di crescere. Probabilmente la cosa è lo stesso, è molto bello che lui te l'abbia passato a livello di movimento e sportivo. L'altra domanda era ancora qual è la giocatrice che hai preso come esempio? Guarda, io il primo anno in antilivelli che ero a Bergamo c'era la Sokolova, un posto quattro che era russa, cioè fortissima, faceva dei colpi, infatti guardavo sempre lei se l'allenamento che le partite con la bocca aperta. E poi provavo a farle certe volte le cose, a volte venivo con delle schifette, ho detto vabbè questo non fa per me, però a volte mi riuscivano, non puoi capire la mia felicità, cioè vabbè. E c'era proprio le svolte delle giornate. E poi c'era Tai Aguero, Tai Aguero è stato il primo posto della nazionale diversi anni e incredibile, faceva le cose proprio con nonchalance, con facilità e mi piaceva davvero tanto. Quella che poi ti dicevo, no? Che era il mio punto di forza, nel senso il mio, così dice. Dunque, lo spiego per chi, in un'intervista fatta su Facebook per donne di sport, sempre per Alley Up, ad una domanda che è, diciamo, il tuo più grande avversario, tra virgolette. Tu hai citato proprio lei, dicendo, era una compagna a cui ambivo portarvi al posto, tra virgolette, una cosa che la guardavo come punto di arrivo, da cui imparavo, ma nel frattempo era quella che dovevo superare. Sì, dopo l'estate, quando ero in nazionale, imparavo con lei perché ero in squadra insieme, e poi con i club, quando giocavamo contro, la vedevo come avversaria e quindi da una parte mi aiutava, ma dall'altra giocava contro. Era dura. Sì, me dava. Senti, poi ci dicono, quando ero giovane, a 33 anni, non si può sentire neanche per uno sportivo. Io condivido assolutamente questo commento. Le domande continuano. Secondo te, Serena, ogni allenatore, ovviamente quando si cambia squadra, lascia qualcosa dietro di sé? Beh, sicuramente. Ogni allenatore lascia il segno, sia positivo, a volte purtroppo anche negativo. Però assolutamente sì. Cioè, altrimenti non sarebbe un allenatore, penso. Io credo che gli allenatori debbano, guarda, ne parlavo oggi proprio con Davide, devono proprio sentire sulle giocatrici, cioè devono proprio volergli bene per trasmettergli qualcosa di positivo. tipo delle figlie, no? Io voglio che quella giocatrice cresca anche per merito mio. Cioè, ho provato, sì sì no. Allora, ho provato una volta il 2x2 con mio fratello, 2x3 volte con mio fratello, per fortuna, perché lui c'ha pazienza, è santo mio fratello. Però con la rete alta. Non ho mai fatto il 2x2 con la rete normale da donna. Però è veramente, cioè lì deve essere intelligente da paura. Io no. È carina questa cosa. Io sono più abbraccio, cioè proprio. Poi non puoi fare i pallonetti, vabbè che i pallonetti non so fare. Però, disastro. Ho fatto il 4x4 della Summer League Volley Tour. Il 4x4, perché 4x4 è probabilmente pallavolo, dai, non è bici volley. Però lì mi diverto come una matta, perché la rete è un po' più, cioè, normale. Puoi tirare, eh? Sì, lì puoi tirare. E c'è solo una persona a muro, dai, quindi, cioè, libertà. Via leggera, ok? Senti, c'è una domanda che mi collega a un'altra che volevo farti anch'io. Qualcuno ti chiede, da allenatrice come saresti? E a me veniva una domanda che è collegata un po' a questo. Insomma, l'allenare cambia il mondo. Però c'era anche un tema. La differenza tra gli obiettivi individuali e gli obiettivi di squadra. Ossia, probabilmente, quando ti sposti da giocatore, ancora di più senti la differenza tra quello che tu vuoi fare e l'altra. Hai detto una cosa molto bella quando hai detto che gli allenatori devono proprio voler bene alle persone. Quindi, mischio la domanda. Da una parte, che allenatrice saresti? E dall'altra, come si colghi a un mancano gli obiettivi individuali e quelli di squadra. Nel frattempo, qualcuno scrive, pallonetti non servono, solo bombe. Brava! Allora, da allenatrice non lo so, ragazzi. Adesso mi sto venendo solo come giocatrice. Poi sto passando alla mia esperienza, poi un giorno chissà. Non lo so. Devo dire che sono circondata da allenatori a casa. Tutti nella mia famiglia sono allenatori. Quindi mancherei proprio solo io e Gaia. Lei parte già da piccola. Esatto. Già gli piace comandare, ha detto. Quindi... Ottima. Invece... Gli obiettivi. Gli obiettivi di squadra. Secondo me, allora, personali ci devono essere. Cioè, tipo... Se facessi allenatrice, guarda, vabbè. Tipo io parlerei con le giocatrici e direi quest'anno cosa vogliamo arrivare, che obiettivi voglio proporci come giocatrice, no? Prima singolarmente. E poi, ovviamente, c'è quello di squadra. Cioè, quello dove dici ok, siamo una squadra che cosa deve fare? Deve crescere, no? Cioè, io penso che... Sì, ci sono gli obiettivi da porsi, che sono quelli a lungo termine, tipo la Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto, Champions, queste cose che vedi, come di prima dicevano, al sogno. E poi ci sono gli obiettivi a breve termine, tipo una partita alla volta, far bene una partita alla volta, un allenamento fatto bene. E poi ci sono gli obiettivi giornalieri. Cioè, oggi mi alleno facendo bene questo, facendo bene l'altro. Sono tutte cose, gli obiettivi. E se per caso non si arrivano a un sogno, questo devo dirlo, non è che ha fallito. Perché la cosa bella è il tragitto. Cioè, il viaggio. Si impara sempre. E quello ti crescerà per il prossimo sogno. Sì, questa cosa è assolutamente affascinante. È assolutamente vero. Però, insomma, mi viene da chiederti, alla finale in Giappone, in cui hai vinto l'argento, mi avresti detto la stessa cosa? Allora, sul momento no. Ma spesso a tutti, è normale. Eh già, no, scusami. Però adesso pensandoci che cosa abbiamo fatto, cioè che percorso è stato, fantastico, cioè che il gruppo era, cioè contentissima. Quindi, cioè, mi porto dietro proprio. Ma poi infatti io sono andata là, tra l'altro quel mondiale lì, essendo una delle più grandi, la chioccia. La dovevo fare da chioccia, no? Da quella che doveva insegnare. Ma io sono tornata indietro con più insegnamento io che loro. Cioè, mi hanno insegnato veramente tantissime cose queste ragazze giovani. Cioè, è stato bellissimo. Il Buon Santo ci chiede, se pensi a una tua vittoria, quale ti viene in mente? Così a bruciapelo. Ma sai che queste domande sono difficili, perché sono tante. Poi alcune più lontane ancora non... Cioè, tipo, io mi ricordo la mia prima Champions che ho vinto e non sapevo neanche cosa era la Champions, praticamente. Cioè, veramente, avevo 17 anni, buttate dentro così. Che anno era? È 2004-2005 la prima, giusto? Sì, a Tenerife. Mi ricordo benissimo. E quindi, beh, proprio. Però... Hai giocato tanto? No, ma che no? Ero panchia, guardavo. Guardavo la Sokolova, però. Arco, cari. La brucia. No, no, guardavo. Cosa stavo dicendo? Mi ricordo più. Stavi dicendo che ce ne sono tante. Ah, ce ne sono tante. Che quella che forse mi ha insegnato di più, proprio personalmente, la vittoria a Casal Maggiore. Ok. Era una di quelle squadre che, boh, dovevano stare a mezza via, invece abbiamo vinto lo scudetto. Cioè, proprio... Mi sono stupita. La sorpresa. Quell'anno lì mi sono resa conto, veramente, che non è la squadra più forte che vince, fisicamente. Ma è proprio la squadra che lega di più, che ha più voglia di vincere, di dimostrare che lo vuole ottenere. Boh, sono tutti questi fattori che mi hanno insegnato veramente tante cose. E poi quell'anno lì stavo male fisicamente. E quindi, sì, proprio personalmente sono cresciuta tanto. Guarda, Valeria Bergoni riprende un concetto che, quando hai detto che gruppo era, è passata un'energia incredibile, no? È passato proprio il senso della squadra, mentre hai detto, mamma, che gruppo era? Lei dice, nello sport individuale disperdono tante emozioni. Qualche sera fa, in un'intervista a una compagna, siamo visti insieme su Facebook, c'era con noi Monica Boggioni della Nazionale Nuoto Paralimpico. Qualche giorno prima avevo intervistato Ariola Trimi, altra campionessa paralimpica, che mi aveva detto, guarda che però lo sport individuale ha attorno a una squadra ed è solo l'esibizione che è individuale, no? Tu la condividi questa riflessione? Beh, io penso che sì, assolutamente. Cioè, non è solo la squadra, intendo anche allenatore, team, tutto il resto. Ovviamente per uno sport singolo è più la sfida con se stesso, punto. Cioè, ogni giorno vado in palestra per avere sfida con me stesso. Cioè, oggi mi supero, oggi mi supero, oggi mi supero. E questo è l'unico, cioè, penso. Non lo so, perché io non essendo stata mai uno sport singolo, non avendo mai fatto sport singoli, però mi sarebbe piaciuto. Magari quando smetto la palla a volo faccio un sport singolo. Provi a farlo. No, però un'altra cosa. Un'altra cosa che... No, scusami, ti ho interrotta, scusami. No, 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 dimmi. Un'altra cosa che invece ci tengo particolarmente che tu racconti è una tua passione fuori dallo sport. Perché l'altro giorno mi hai detto una cosa molto bella e io, insomma, ci tengo abbastanza. Mi hai parlato di arte. Sì, questo è proprio fuori dalla palla a volo. Sì, perché mi piace disegnare e quindi poi, essendo di Faenza, a Faenza c'è la ceramica come l'arte della città, no? E quindi fin da piccola mi sono innamorata dell'arte della ceramica. Appena ho cambiato, cioè dopo ho finito le medie, ho scelto la scuola d'arte di ceramica. Poi purtroppo, purtroppo, per la palla a volo ho cambiato scuola, ho fatto Mosaico, Ravenna, che c'era il Club Italia Ravenna, quindi ho dovuto fare Mosaico, ho cambiato scuola. E poi a Bergamo ho fatto decorazione pittorica, quindi proprio purtroppo, ma comunque è stato bello perché ho conosciuto altre arti. Ti è rimasta questa passione? Mosaico. Eh? Ti è rimasta questa passione, però introduco questa cosa. Riccardo Verme, che è stato in intervista con noi un paio di settimane fa, è l'allenatore della Nazionale di Nuoto Paralimpico, ti chiede, nel frattempo proprio giusto appunto, vedendo tutto il tuo percorso di studi, come sei riuscita a continuarlo in città diverse, ti dice che consigli daresti ai giovani per far conciliare lo sport agonistico, quindi allenamento di giornaliera, e lo studio, medie e superiori? Eh, devo dire che io... È stata difficile, non è stata facile mi assemblare le due cose, anche perché quando ero a Bergamo avevo pure la Champions, quindi mancavo a scuola per tre giorni, in frasettimana, e quindi poi magari tornavo per due giorni, nel weekend avevo la trasferta, quindi mancavo un altro giorno. È stato molto difficile, però penso che se è una cosa la vuoi... devi avere un po' di pazienza, organizzarti, secondo me l'organizzazione è tutto. Io, per esempio, ho imparato che dopo allenamento alla sera ero stanca, non ce la facevo, piuttosto mi andavo a letto presto, e la mattina dopo mi svegliavo presto per studiare, ero più fresca, e poi sono tutte cose organizzative, personali, che se uno vuole le raggiunge, cioè nel senso le trova. Ovviamente sì, sono momenti della vita dove sei un po' più difficile, perché sei impegnato, però ne varranno appena poi dopo. Sì, è vero, anch'io ritengo che sia una cosa che pian piano ti accorgi mentre cresci, no? Io ricordo la vita di questi giorni da papà in cui io ho vissuto la pallanuoto studiando e ricordo la fatica per laurearmi in ingegneria. Oggi mio figlio fa avanti e indietro, io abito vicino a Milano, da Arese a Como, in treno, in terza media, per cercare di allenarsi con la pallanuoto. E da genitore non è facile accettare che magari si stia impegnando tanto da una parte e molli un pochino e riuscire a dargli i giusti consigli insomma è sempre un passaggio difficile. Il sostegno probabilmente, lo stesso di cui tu raccontavi alle giovani senza senza sgridarle, ma diciamo che sostenendole probabilmente è un messaggio buono e forte che possono dare i genitori. Sì, soprattutto anche i genitori che magari aiutarli moralmente è una cosa in più senza invece ogni volta sgridarli. Secondo me fa molto di più. Senti, Francesca Rinetti ti chiede ho un'amica che ha una figlia destinata al calcio professionistico. Che consiglio le daresti da mamma e da atleta? Non ho capito il consiglio. Che consiglio le daresti a una figlia destinata al calcio professionistico? Il consiglio le daresti da mamma di continuare per la sua strada di non mollare mai non mollare mai solitamente di andarsi a prendere quello che vuole e sotto Valeria Albergoni ci dice perché come hai detto prima quello che vuoi te lo prendi in un modo o nell'altro insomma penso che si riferisse anche al tuo modo di girare per le scuole e per l'arte e per poterlo costruire. Senti io ho un altro ricordo che tu hai toccato ieri quando abbiamo parlato tra di noi che mi aveva abbastanza colpito il concetto dell'arte e della natura mi pare che tu avessi detto una cosa del genere vero? Sì allora adesso con il coronavirus mi sono un po' tranquillizzata tranquillizzata però devo dire che nell'ultimo periodo quando seguivo i social così molto spesso mi venivano le pubblicità così comunque anche le notizie delle foreste comunque del mondo che sta cambiando no? la plastica e avendo una figlia per quelli che non hanno figli magari queste cose non toccano tanto ma per noi che abbiamo dei figli io personalmente mi sento un po' in colpa no? per quello che sto usando per come sto vivendo senza pensare al futuro e allora all'improvviso ho detto basta voglio fare qualcosa di diverso voglio cambiare le mie abitudini perché sono veramente piccole cose nell'abitudine che secondo me se capisci cosa devi fare se le cambi e poi diventa tutto più facile ma è veramente quel poco tipo adesso cioè io adesso non bevo mai nelle bottigliette di plastica ho smesso prendo sempre l'acqua di vetro oppure quelle da distributori cioè io ho smesso di usare le bottiglie di plastica adesso quando mi è capita una volta una bottiglia di plastica in mano mi sembra quasi strano ho capito però è un'abitudine è una questione di di fare di dire ok voglio fare questa cosa adesso sto facendo proprio una sfida con me stessa sto provando in tutti i modi di fare meno plastica possibile cioè voglio diminuire il mio sacco del mio indizio ogni settimana e quindi anche lo yogurt lo voglio fare da sola senza comprare ogni volta i vasettini vabbè adesso proprio insomma ti sei scoperta innamorata di questo mondo fatto di natura senza detersivi senza cose inquinanti bagno schiuma solo con le saponette fantastico senti nel frattempo ci chiedono prima di tutto che abitudine scaramantiche prima delle partite hai allora abbiamo toccato un punto che io proprio la scaramantina allora ditemi tutto rito cosa ma scaramantia io zero io odio la scaramantina riti che riti hai allora intanto scaramantia non va bene mai dire scaramantie mai mai perdere di tempo sicurezza e tutto il resto allora il mio rito io mi preparo la partita intanto durante la settimana mi preparo proprio per la partita capito mi alleno sapendo contro chi gioco magari mi ricordo cosa mi hanno come mi hanno studiata come mi hanno tenuta parallela diagonale tutte queste cose qua e io mi alleno in modo da allenarmi per quella partita lì e poi appena prima la partita io mi carico quando mi trucco davanti allo specchio mi preparo mi trucco e metto la musica a pala dei Queen a manetta abbiamo la stessa passione non bere uno e poi mi parlo con me stessa mi do un bel po' di gas con delle frasi positive tipo oggi è il mio giorno oggi trasmetterò positività a tutta la squadra tipo cose del genere e faccio venire un po' di pelle d'oca mi accendo sì sì ma a quei momenti lì proprio a parte che mi chiudo a chiave in camera in bagno perché sennò entrano tutti e dopo non tanto se no spendo troppe energie dopo in campo non spese troppe accendo un po' di adrenalina e poi dopo niente dopo sono pronta per andare in campo poi accendo un po' del come si dice aspetta del mio ancoraggio perché ho fatto comunque un lavoro con un mental coach e quindi ho tutti i miei riti dove mi aiutano a entrare comunque in partita e essere positiva ovviamente la domanda successiva un po' si collega Paola Malfatto ci chiede stanno iniziando gli esami di maturità di un anno molto speciale se dovessi fare l'esame e fosse una partita di parto lavoro come ti prepareresti psicologicamente? beh direi trucco a manetta queen all'impazzata una stella guardi esatto oddio allora per la scuola allora secondo me questo periodo qua dipende un po' come lo vediamo da una parte dici ok ci ha ci ha fatto tenere lontani è difficile di qua di là dall'altro però bisogna vedere anche il fatto che ok adesso se usciamo usciamo più forti abbiamo passato questo periodo difficile e ci ha fatto la corazza più spessa cioè ho passato questo periodo sono ancora più forte sono ancora più determinato cioè io ho passato il covid cioè in senso capito? dato speriamo che però capito deve essere una cosa più positiva più che ti dà che ti dà la spinta non che ti toglie ok? siccome studi come ti marcano o come scusa ti broccavano hai detto una parola prima perdonami non me la ricordo più e Gaia se dovessi fare ecco mi ti muravano hai ragione diagonali se Gaia dovesse fare la maturità probabilmente le faresti studiare tutti i professori che domande fanno come quali ti mettono in crisi poverina già me la vedo già me la vedo in difficoltà ovviamente sono partiti appena hai detto di non usare la parola scaramantico è partita mia moglie amici a dirmi e tu sei scaramantico perché io in realtà un po' di riti li avevo anche un po' non mi truccavo però tendenzialmente stessi indumenti cose del genere ma no ok però non potete dirvele io ho chiesto dei compagni che venivano alla partita tristi perché non c'avevano le mutande giuste della parola no tristi no tristi no per esempio io avevo le mutande fortunate ma come io avevo una cuffia avevo una cuffia che mi ha regalato mio figlio che tenevo nella tasca del capatoio devo dirvi che se non c'era essere proprio tranquilla ma perché crearci queste cose no ragione però c'era tanto c'era però c'era se non c'era mandato senti ti farei un'ultima domanda che ho visto passare che mi piaceva molto che cosa non sopporti assolutamente in un avversario perché a me questa cosa mi incuriosisce molto perché da me l'avversario è a contatto quindi se c'è qualcosa che non sopporto mi viene da una lotta fisica mentre voi siete a distanza di una rete cosa che non sopporti assolutamente l'avversario e come reagisci allora intanto penso il far play cioè se uno non rispetta le regole cioè tipo vabbè ci sono quelle che ti urlano in faccia e dico quindi fastidiosa va bene però fa parte del gioco anche questo purtroppo però tipo anche quelle che tipo adesso c'è il challenge no? quando toccano un muro comunque c'è da chiamare il challenge e tipo adesso spesso anche quando non la toccano dicono si chiama il challenge così lo perdi perché non l'ha toccata non so se mi sono spiegata sì assolutamente assolutamente da chiedere sì sì quindi quelli che fanno finta insomma sì bravo vabbè e quindi sì sempre fa play intanto salutiamo salutiamo Ilaria Galbusera che era con noi nell'altra diretta che ci sta salutando lo sentite l'altro giorno la salutiamo volendo perché hanno creato le mascherine trasparenti biodegradabili grande grandissima ce l'ha suggerito lei Ilaria campionessa del mondo con la nazionale di pallavolo sorde e che ci ha raccontato l'importanza in questo periodo di poter usare le mascherine trasparenti e tu l'hai l'hai adottata grande ottimo ottimo senti io ti ringrazio insomma siamo passati attraverso un milione di domande mi rimarrebbe ancora da chiederti tu cosa fai per innervosire le altre se lo fai faccio il punto a volte a volte l'indifferenza va da più fastidio che l'aggressività no quando perfetto no perfetto direi perfetto senti una cosa Serena Brasil il teama Gedonini ti scrive samba esatto samba senti ti ringrazio ah brava hai preparato il caffè tra l'altro io scusa bicchiere ovviamente di vetro non scherziamo è arrivata una domanda che è arrivata dodici volte se non fossi una pallavorista che cosa faresti? mamma mia queste domande sono veramente difficili se non fossi una pallavorista forse sarei lì a fare ceramica avrei continuato la mia scuola sarei lì a fare i fasi tra l'altro speriamo che tu la riprenda dopo perché tendenzialmente diventerebbe assolutamente un problema esserci perse una ceramista e artista che chissà cosa potrebbe fare un domani con natura e ceramica e arte grazie senti io ti ringrazio molto ti ringrazio per tutta la tua disponibilità a raccontarti dentro e fuori al lavoro a parlarci di Gaia a parlarci scusa è arrivato ovviamente un vaso a forma di palla da pallavolo parlando di ceramica ovviamente ringrazio Ezio e tutti quelli che hanno partecipato Claudio 76 CL ci scrive Serena nella finale Scudetto contro Villa Cortese top poi si scrive siete una famiglia bellissima 2011 11 Bergamo 20 20 facile insomma no facile no mai non si scherza devo dire che a questo punto Tarchei ti scrivono in Turchia ok perfetto quindi ti salutano anche da lì da un po' da tutto il mondo e direi grazie grazie di esserti messa in gioco grazie di esserti raccontata grazie a tutte le persone che hanno partecipato che sono state a turno tante e che fondamentalmente ci hanno riempiti di domande grazie e domani ci sarà una nuova puntata di un caffè con sarà alle 14.30 con Carolina Capria e parleremo di libri che hanno un genere e invece noi ci ritroveremo sempre con me il giovedì sera insieme a Monica Boggioni atleta paralimpica grazie ancora a tutti grazie a Serena e a presto arrivederci ciao ciao a tutti